rial gabibba su youtube ci scrive bu bu lorrenic che odiano i musical d'ora in poi metterò muto ogni volta che parlate ascolterò solo il grande si ho scritto in maiuscolo si ho per favore parla in maniera più o meno comprensibile d'ora in poi rial gabibba ho un'ottima notizia per te dato che non era possibile far parlare si io in una maniera comprensibile abbiamo deciso di tagliarlo in toto della puntata e quindi bentornato a fabio antonelli ciao fabio come stai meravigliosamente ciao ragazzi sono molto felice di essere qui tu oggi non ci parli di musical vero no oggi non cosa stai dicendo no per ora no no l'importante è quello cioè non possiamo sostituire si io con un'altra persona che ci parla di musical se c'è una persona che avrebbe le conoscenze per farlo sei tu mi è venuta un attimo la preoccupazione potrei parlare di fumetti visto che potresti sì ma in realtà il problema di tutta la questione era il fatto di sì quando parla e non si capisce una fava non il fatto che parlasse di musical per me fabio se vuole parlare musical può farlo la domanda però che devo farvi tra l'altro ciao nick che non ti ho salutato prima è quante pizze avete mangiato questa settimana perché io due metà per la mia solita pizza totale io ne ho mangiata una bravo e mezzo bravissimo ieri bravissimo per il mio compleanno sono andato a pranzo a mangiare la pizza napoletana in un posto che non posso pubblicizzare perché non credo sia giusto non è uno sponsor al contrario di nenne che invece è lo sponsor della puntata di oggi ma ne parliamo dopo e sono andato a mangiare un posto al centro di roma napoletano che fa la pizza napoletana fa anche la pizza fritta e sono troppo felice quindi una e mezzo perché gli astanti dopo il tris di antipasti napoletani non riuscivano più a finire la loro e come ben sapete sono solito mettere le mani nei piatti degli altri cosa per la quale hai pochissimi amici comunque se sono anche questi rischiavi un attimo di perderteli però se mai doveste uscire a pranzo a cena con fabio antonelli ricordatevi di metterlo nell'angolino al tavolo dei bambini tipo che mangia da solo così non vi mette le mani nei piatti comunque auguro in ritardo fa esatto auguro in ritardo grande fabio antonelli autore di suona tipo bene il podcast non diffidate dalle imitazioni l'originale ma perché perché sta premessa cosa voleva dire perché era un po che non dicevo suona tipo bene in questi giorni ho incontrato ho incontrato persone tipo al salone del libro e cose che mi hanno detto di fabio sono tipo bene che figata e io ho detto ma io sono un nick di power pizza comunque per tornare sulle pizze in realtà lo mangiate 2 barra 3 nel senso che ieri sera ho mangiato una pizza che non so se qualificare come pizza perché era una pizza alla teglia perché era un piatto di melanzane cosa vuol dire no è che sì c'era dell'impasto e c'erano delle cose sopra però non ne sono uscito proprio dicendo è una pizza ma soprattutto mi sono dimenticato di fotografarla comunque c'erano i friarielli i broccoli e il tofu affumicato sopra con una salsa barbecue strana eravamo in questo posto a torino che si ma fusion perché fa tipo pizza e sushi era un po' confuso oh no tutte le premesse sono sbagliatissime tofu pizza e sushi fusion nel nome cosa però per fortuna nel resto della settimana ho mangiato una pizza sottilissima e gigantesca con la mia mamma ma soprattutto finalmente un'altra fettona della pizza al cucchiaio di Giuliano che non può mai mancare e che continua a suscitare tipo scalpore online perché più e più persone mi continuano a dire ma cos'è quella roba power pizza si vergognerebbe di te l'orro si vergognerebbe di te e dico ragazzi ma non è vero smettetela assolutamente no ma invece parlando di grissini avete dei grissini da sgranocchiare per questa puntata sai che sì sai anch'io la verità è che in preparazione di questo episodio leggevo dei grissini dall'ultima e dalla penultima puntata dopodiché trovo Luca Lorenzo Giuliato che in tre diversi grissini scrive wow che puntata neutra puntini puntini forse Fabio Antonelli direbbe potete fare meno caos che non sento la colonna sonora e poi obiezione accolta allora Luca Lorenzo Giuliato io non ho capito nulla di quello che tu hai detto ma perché devi fare come Nick leggere i grissini che non si capisce una fava riuscite a scegliervi dei commenti che abbiano un senso no perché la parte speciale di questo grissino è che non solo non capisco niente ma tecnicamente è quello che avrei detto io e quindi è capito è l'esplosione una dentro l'altra delle cose che non capisco e quindi niente non so come rispondere ma l'ho letto grazie per averlo fatto invece la data di uscita di Silk Song ci dice raga avete visto che la Marvel ha creato dell'esperienza in VR di What If per l'Apple Vision Pro secondo me è solo un passo in più verso il Subway Surfer in VR manca poco ragazzi premesso sarebbe forse l'unica killer app possibile per l'Apple Vision Pro ma prendo solo questa cosa per dire che ultimamente stavo seguendo vari spezzoni tra il podcast e le recensioni di MKBHD e nel senso ha parlato di quanto le persone stanno iniziando a rimandare indietro l'Apple Vision Pro già tantissimi l'hanno fatto perché c'erano i 30 giorni di soddisfatto e rimborsato e un sacco di persone al 29esimo giorno hanno detto bello eh tieni grazie per i miei 3500 dollari e un sacco di persone scusa se ti interrompo ma si sanno le motivazioni del tipo la gente lo rimanda indietro perché è che cacchio ne so non serve una fava perché è scomodo cioè no non abbiamo questi dati non abbiamo questi dati il dato che c'è è che tantissime unità sono state riconsegnate a Apple quindi in realtà anche di quelle vendute una bella parte è ritornata ad Apple e l'altra cosa è che c'è famosamente un problema con il vetro dell'Apple Vision Pro esterno che per un problema di surriscaldamento interno si crepa di notte cioè tu lo... vedete questo ha solo 16.000 euro cosa vuoi che sia voglio dire poi si crepa di notte bellissimo cioè ma proprio tipo il vetro che si spacca a metà con una riga drittissima perché è proprio tipo un punto debole della struttura ma sta roba ma la roba da star a soldi ma la testano prima di metterla sul mercato cioè che è una domanda retorica no la testano col mercato esatto la fanno testare a quelli che ci spendono 5000 dollari dannazione wow wow che schifo quindi speriamo che proprio Marvel e What If in VR siano la cosa che fa cambiare l'idea alle persone sull'Apple Vision Pro e una di quelle cose che sono già super felice si è completamente sparita dai miei radar cioè per un attimo la mia bolla parlava solo di quella roba lì ero infastiditissimo e adesso nessuno ne parla sono molto felice sì però aspetta ricordati che esiste anche un mondo fuori dalla tua bolla non è che perché tipo tu non ne vedi parlare che allora è già dimenticato l'Apple Vision proprio non è che perché esiste un mondo fuori dalla mia bolla allora devo prestare gli attenzioni cioè nel senso può rimanere fuori quello allora a me fanno ridere le versioni tipo Pepperoni, Guidaccio78, Stefano Candela e un bot di altra gente che hanno scritto cose sul tono di Loro fa un endorsement per una nota catena di supermercati nel caso RS lunga un governatore di regione viene svegliato a lettarè di notte dai carabinieri e il CDA della suddetta catena di supermercati perde pezzi dove ci porterà questo butterfly effect e niente c'era un botto di gente che mi scriveva commenti sul fatto che appunto avevo parlato bene di S lunga tipo e poi ci sono state beghe diciamo legali in questi giorni però raga cioè nel senso S lunga cioè il padre creatore di S lunga era Bernardo Caprotti che cioè voglio dire era uno condannato a nove mesi per tangenti alla guardia di finanza amico e finanziatore di Berlusconi dico cioè a me piace perché poi ci hanno le focaccine incredibili ma non è che fossero proprio cioè nel senso proprio esenti da critiche anche prima quindi non è che sia proprio una novetà voglio dire però yum yum le focaccine ecco cioè non bastano le focaccine per redimere quel passato ok sento che no Nicola Cantironi invece ci dice ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto nessun altro può aiutarmi non trovo strumenti che mi possano aiutare quindi siete la mia unica speranza ok sto cercando il titolo di un gioco disponibile sia per Steam che per Switch dove in pratica in parti lo schermo si riempi di personaggi in movimento e tu prima devi capire muovendo il joycon quel è il tuo e poi senza far capire agli altri di averlo capito trovare gli altri spero di essermi fatto capire io a questo punto è unspottable è unspottable però io lo leggevo soltanto perché cioè era incomprensibile la grammatica di questo crisino e di questa frase l'avevo letto anch'io era comprensibilissimo sei tu che l'hai letto super male cioè comunque sì il gioco che cerchi è unspottable è un senso sono certo che tu l'avresti potuto googolare in qualche maniera invece che chiederlo a noi ma stranamente ha funzionato chiedere la power pizza è uno strumento tra l'altro unspottable è un gioco dove io sono invincibile ad essere davvero quello che muore per prima ah ok pure io allora abbiamo lo stesso superpotere abbiamo giocato insieme ragazzi non vi ricordate ero sempre l'ultimo a tutto aspetta però c'è anche da dire che abbiamo giocato contro Savu che allora A è una macchina da guerra in quel gioco e B ha un problema di competitività cioè che veramente dovrebbe tipo ma affrontare in qualche maniera quindi cioè nel senso noi eravamo la merda ma stavamo giocando contro la persona più pericolosa dell'universo quindi ecco c'è questo ciao Savu parlando invece di menus vabbè Fabio questa cosa suonerà nuova tu Nick te lo ricordi Yellow Taxi Goes Vroom il platformino con l'auto certo perfetto ho scoperto a caso su TikTok che sono italiani gli sviluppatori Panic Arcade sono Marco Gonano spero di leggerlo bene e Lorenzo Tombesi e sono due italiani io semplicemente su TikTok mi è venuta fuori una cosa di Yellow Taxi Goes Vroom con tipo non so il mandolino sotto le cose con la pizza e tipo wow delle vibe riconoscibili quindi sono molto fiero che il nostro paese continua a produrre capolavori almeno qualcuno lo tira fuori ogni tanto Yellow Taxi Goes Vroom è uno di questi anche io sinceramente ho una menus un po' piccolina nel senso che il discorso è che sono molto molto felice che sia uscito al cinema il film di Liberato con le animazioni di Lorenzo Ceccotti in arte Lorenz che sono pazzesche cioè è una roba che ti esplode il cervello dalla bellezza e siccome quell'uomo è solo stato in grado di fare cose bellissime sono così felice che finalmente al cinema ci sia stata la volontà di fare qualcosa di così in un certo senso rischioso ed è venuto bellissimo quindi dagli Lorenzo e dagli Liberato e sono molto contento di questo film che però credo che sarà al cinema fino a il 15 di maggio sì tra poco però poi sarà su Netflix in teoria ah ok ok comodo se non altro ne parlavo ieri sera con Guarnaboy e Matilde che rimane se non sbaglio al cinema solo per nove giorni però sarà su Netflix immediatamente dopo quindi nel senso lo possiamo recuperare sarebbe bello vederlo al cinema perché merita tantissimo tante persone mi stanno dicendo che è una bomba atomica ma che poi tra l'altro io ho scoperto letteralmente nel peggiore dei modi ho aperto Instagram e c'era tipo un ad di questa cosa o qualcuno che ricondivideva il trailer cioè io non avevo idea che dovesse uscire questa cosa cioè veramente l'ho scoperto due giorni fa e boh se riesco vado a recuperarmi dal cinema e se no me lo vedrò da casa in qualche maniera però che figata sì tra l'altro bomba anche perché a me personalmente non è mai fregato niente di liberato cioè né come progetto musicale né come cosa eccetera no no è proprio una roba rude ma ok va bene no ho solo detto che non ho detto che mi piaccia o non mi piace non me ne è mai interessato ricordatevi di quando Nick ha detto liberato è un pezzo di merda qua in diretta su Power Pizza è successo il giudice dice ti giuro te lo infilo in tasca quel gong devi metterlo via Fabio Porco 2 vai avanti cosa stavi dicendo volevo soltanto dire che se c'è una cosa che mi può far sviluppare dell'attenzione nei confronti di liberato è sicuramente questo film quindi adesso andrò a guardarmelo molto volentieri io ho due menu user rapide e indolori perché ormai invitando Fabio dobbiamo parlare della cricca romana c'è anche Lorenz ovviamente non è che dubbiamo però puoi farlo se lo desideri viene da contratto questa Power Pinsa deve anche citare Daniele Fabri che ha appena iniziato un nuovo podcast di cui ci sono i primi quattro episodi disponibili sulle varie piattaforme tra cui Spotify e quant'altro si chiama Limiti ed sono lui e Andrea Di Castro che parlano dei limiti delle cose e ho ascoltato il primo episodio adesso mi sto man mano recuperando tutti perché comunque durano un'ora e poco più ognuno molto carino quindi dagli dagli regà bravi bello fare i podcast ma nell'ultimo periodo Daniele ha iniziato 85 podcast diversi o sono io che mi sono perso un pezzo? secondo me sei tu che ti sei perso un pezzo sono tutti lo stesso podcast solo che ogni volta c'è una persona diversa però c'è un puntato diverso dello stesso podcast può essere ma non so perché avevo questa percezione va bene va bene e l'unica altra cosa approfitto del fatto che ci sia il buon Fabio Antonelli che parla di musica no per dire che una delle mie band preferite del passato sono gli Incubus ora questa frase mi dici un favoloso un po' di giudizio da parte di qualcuno che ha poco buon gusto però non importa c'è nel senso Nick è cresciuto con una cover band degli Incubus e dei Radio e dei Muse cioè cover band terrificante però ascoltavo tanto gli Incubus aspetta erano i Joker Suicide i The Joker Suicide of course che nome che mi fa venire l'acne anche solo a pronunciarlo a voce alta vabbè dicevi molto giusto no volevo soltanto dire che uno dei loro album più belli uscito nel 2001 si chiamava Morning View c'erano stati una serie di incidenti in corso di registrazione e una serie di robe però era rimasto un album che li ha e quello che li ha fatti decollare nella fama tipo mainstream bene a maggio quest'anno è uscito Morning View 23 cioè lo stesso album la stessa tracklist le stesse canzoni riregistrate riadattate oggi dalla band e allora l'ho ascoltato per un paio di giorni sono molto legato emotivamente a quei pezzi quindi mi fa strano sentirne una versione diversa però non sapevo che fosse una cosa abbastanza diffusa quella di prendere alcuni album del passato e rimaneggiarli ho scoperto che tipo Taylor Swift lo sta facendo tantissimo vabbè sono fatto Taylor Swift esatto tra l'altro no ed è una roba cioè è interessante vedere come in vent'anni cambia il sound di una band che vuole semplicemente rifare le stesse canzoni nella maniera in cui avrebbero voluto al tempo ma che non avevano potuto è interessante quindi se vi piacciono gli incubus Morning View 23 appena uscito dategli un ascolto attenzione al fattore nostalgia lo farò io lo farò io sono molto mi piacevano tanto me gli incubus perché hai buon gusto a differenza di Lor io l'ho visti dal vivo a Red Rocks sì no non avrei mai pensato cioè io dico però se lo dice Fabio automaticamente piacciono anche me io mi fido di quello che dice Fabio silenzio un secondo tu l'hai vista a Red Rock dove hanno fatto tipo il live loro più bello di sempre c'è il DVD live più bello che abbiano mai registrato se era nel 2004 tra il 2004 e il 2007 sì può essere ma loro però facevano Red Rocks Red Rocks è tipo il posto più bello dove fare i concerti della storia che è praticamente questo luogo che sta in Colorado scavato nella roccia per quello che è Red perché è Colorado certo questa è arrivata dopo ma ha fatto male come se fosse arrivata prima e dopo ed è un posto meraviglioso dove ci hanno suonato praticamente chiunque ecco chi vive in Colorado ha la fortuna di poter vedere tutte le band lì io Dave Matthews Band Incubus Tori Amos sono viste tutte lì Tori Amos si dice comunque salutiamo tutte le persone che ci ascoltano dal Colorado che sono di sicuro molteplici voglio dire via Colorado che sta più o meno a Mogliano Veneto a Ostia comunque fatelo ascoltare carino io vi delizio con un'ultima cosa avete presente cos'è Biriocart cosa cos'è allora so che Nick specialmente non so tu Fabio Nick è un amante di Mario Kart quello per la Wii Mario Kart Wii è incredibile non è rilevante se ti piace Mario Kart e ti piace bere so che ti piace bere perché sei un alcolizzato certo allora io ti propongo il drinking game di Mario Kart che si chiama appunto Biriocart allora le regole sono semplicissime perché allora niente CPU quindi si può niente GP e puoi solo fare la modalità quella versus no quindi togli tutti quelli controllati dal computer allora si scelgono il numero di birre 1 2 3 4 lì a seconda di con chi stai giocando quante birre hai ok l'unica regola è tu questo non so facciamo tre birre te le devi finire entro la fine delle track delle piste che hai scelto ok ma c'è una regola aggiuntiva si tu hai quattro corse tu entro quelle quattro corse devi finire le non so tre birre facciamo ma non puoi bere e guidare cioè se stai bevendo devi fermarti tipo e puoi guidare solo mentre non stai bevendo quindi ci sono tutta una serie di strategie tipo puoi ciugare la birra velocissimo prima di partire tipo quando c'è ancora il semaforo all'inizio oppure arrivi verso la fine poi ti fermi la bevi velocemente poi riparti oppure ti fermi ogni tanto fai un sorsino e poi avanti fatto sta che vince chi ovviamente è più in alto nella classifica e chi è riuscito a finire tutte le birre o quello che volete bere prima della fine delle piste selezionate birri o kart prego non c'è bisogno di ringraziarmi letteralmente la definizione di un'idea inutile e orrenda ma potrebbe essere molto divertente svoltare una serata io ve la metto lì poi fate voi di questa cosa ciò che volete fabio cosa come mai oggi sei qua a sprecare il tuo pomeriggio insieme a noi cosa ti porta qua su power pizza ma fondamentalmente una telefonata da parte vostra però speravo che ignorassi questo fatto ma oltre a questo volevo sottolinearlo ad ogni modo dunque io in realtà ho due cose di cui parlare una mini perché mini l'ho vista l'altra un po' di più ma possiamo scegliere noi se prima quella mini e poi quella grossa scegliete voi qualcosa vuoi io voglio prima quella mini la pillola piccola o la pillola piena la pillola piccola entrambe da assumere spero per l'alto e non per il basso però io preferirei prima quella piccola per piacere pillola e poi main course allora io sinceramente ho riflettuto adesso che pillola e supposta sono due nomi diversi non esistono le pillole pericolo si chiamano supposte comunque dicevi allora io volevo parlare del fatto che su netflix recentissimamente un paio di settimane fa è uscito il film di city hunter adesso in che senso è uscito il film proprio con gli attori recitato meraviglioso di city hunter ed è un film l'anime sì esatto l'anime però recitato però live action ma io ho convinto se fosse già un live action tipo di inizio anni 90 di city hunter allora non ho trovato nulla in merito forse effettivamente tipo negli anni nel 93 ho visto che era uscito qualcosa ma non ho visto se proprio effettivamente era un live action detto questo io l'ho visto ho visto solo i primi 10 minuti e voglio fare una recensione di questi 10 minuti perché in realtà è una recensione molto positiva allora city hunter appunto era questo manga anime andato di moda tantissimo anche in Italia negli anni 90 nei primi anni 90 fino al 2000 devo dire ed è in realtà trattatemi che oggi sono abbastanza diciamo abbastanza demo perché comunque il personaggio di city hunter è comunque fondamentalmente un maniaco quindi assolutamente contestualmente al fatto che lui sia un appunto un detective c'è tutta la parte diciamo in cui lui è un erotomane quindi assolutamente sì lo stai dicendo nella maniera più delicata ma assolutamente hai visto? ma infatti in Italia era conosciuto come detective maniaco non si gianta comunque niente quello che volevo dire è che passata questa parte che comunque non è stata adattata troppo ho trovato molto affascinante la regia di questo live action perché è la prima volta ribadisco io sto parlando i primi dieci minuti dopodiché non è che mi sono annoiato ma sono dovuto andare via e non l'ho più riguardato ci sarà un motivo? non lo so i primi dieci minuti mi hanno stupito in positivo per il fatto che sembra letteralmente di vedere la regia dell'anime le inquadrature il modo di recitare sono movimenti che sinceramente a attori reali e movimenti di macchina reali non avevo mai notato e quindi li ho trovati particolarmente affascinanti esempio stupido molto spesso nei film quando ci sono persone che guidano e noi vediamo loro che appunto che parlano mentre guidano si devo fare questo gesto esatto stanno facendo il gesto di muovere levemente il volante perché si sono dimenticati che è un podcast audio comunque quindi se fanno i gesti non si deve comunque non importa non importa ecco ad esempio molto spesso nei film noi vediamo la telecamera che prende i due attori o praticamente dal vetro oppure se sono proprio fuori vediamo i fari ad esempio c'è la macchina proprio da fuori soltanto negli anime che io ricordi vediamo o praticamente il taglio dal faro in su oppure proprio il faro tagliato vediamo il cruscotto e il vetro ok quel tipo di inquadratura io nei film non l'ho mai visto lo vediamo in questo film cioè hanno preso le inquadrature precise precise dall'anime e questa cosa dà un sapore nuovo nice che ho trovato veramente interessante poi il film potrà essere bello o non bello io ho trovato anche molto affascinante come appunto degli attori asiatici giapponesi in questo caso fanno proprio le stesse identiche espressioni non solo facciali ma anche proprio di mimica di biomeccanica nel senso la cosa la cosa tipica lui appunto che ci provava con qualcuna e magari si trovava lei che gli puntava la pistola sulla faccia ecco proprio quel gesto in cui tu vedevi proprio la faccia che veniva deformata da questa pistola che gli entrava nella guancia in un certo qual senso e lui continuava a fare lo scemo questo tipo di mimica io personalmente nel cinema con la mia conoscenza che non è necessariamente quella più aulica che ci possa essere non l'avevo mai trovata e quindi ho trovato molto affascinante il voler esplorare questo stile però ricoprendo completamente quello che era quello dell'anime bello quindi i primi dieci minuti bellissimi magari poi è una cacata no 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 dimmi dimmi grazie per questa recensione dei primi dieci minuti io ho una domanda ti è mai capitato a parte questo di City Hunter di vedere degli adattamenti live action giapponesi di roba giapponese non so il film di Miki su Ace Attorni o roba del genere Time Dokkan cioè ti è mai capitato di vedere cose del genere no penso però cioè ho visto Cowboy Bebop è che però è una merda era fatta da Netflix era una coproduzione cioè nel senso no io parlo proprio di cose giapponesi poi magari pure questa è una coproduzione non lo so io apprendo adesso che esista questo live action di City Hunter però per dire queste cose di cui mi stavi parlando di una mimica molto cioè quasi caricaturale tipo una certa regia che cerca di riprendere certi stilemi dagli anime secondo me la puoi ritrovare anche in altri appunti adattamenti live action però appunto non quelli che ti fa cioè no One Piece che ti fa Netflix voglio dire o Death Note o Death Note quello con che cazzo era vabbè ci siamo capiti quello insomma perfetto quello di Netflix non vedo l'ora che tu veda altri cioè oltre i primi dieci minuti per vedere cosa cosa ne penserai comunque ok sono va bene ad ogni modo visto appunto la mia la mia sorpresa di tutto questo voglio dare sette fette di una dimmi dieci minuti e lo so infatti adesso mi sono studiata mi sono studiata bene questa gli do sette fette di una fetta di una pizza cosa vuol dire di una pizza che ti viene fatta assaggiare da un ristorante di pesce che sta a Hokkaido ok va bene dove il proprietario dice senti la prima volta ho provato a fare la pizza la monetana massaggi sta fetta e dico buona fine la settimana che non c'essi io cioè dobbiamo beccarci la settimana in cui Fabio è completamente sciroccato non potevamo fare il Fabio normale ormai dice io le cose buone le tengo per il mio podcast quando mi vedo uno degli altri gli do gli scarti ho quasi timore a chiederlo questa era la cosa breve quella lunga quanto dura 40 minuti cos'è la cosa lunga Fabio quanto basta la dico adesso vogliamo no ti prego ti prego stavo stavo scherzando ti prego raccontaci allora no io sinceramente voglio parlare di una serie meravigliosa oggettivamente uscita ad aprile 2024 su Netflix che si chiama Replay ed è in realtà con Andrew Scott come? con Andrew Scott ah si scusa ho sentito Ridley Scott non capivo anche io infatti ero già sul piede di cosa cazzo stai dicendo invece meno male che ho dacciuto è solo il prete fico di esattamente il prete fico Andrew Scott un attore pazzesco senza senso quell'uomo muove un sopracciglio e ti si apre un pianeta è incredibile lui è baravo in culo sono riusciti a fargli fare un ruolo di merda che guarda caso era Sherlock andiamo avanti ok wow allora serie Ridley che in realtà fondamentalmente è un rifacimento comunque una delle versioni del talento di Mr. Ripley credo che si chiami sia il romanzo che si esatto questa è una serie una mini serie in realtà perché credo che siano otto episodi girata interamente in Italia ed è girata appunto in un periodo che credo si collochi più o meno anni 60 70 quasi interamente anzi o forse interamente in bianco e nero ed è bellissima ragazzi è veramente il cinema bello perché riprende in maniera super fedele le inquadrature la fotografia lo stile del cinema appunto degli anni 60 70 io inizio a vedere un pattern fra quello che dice Fabio comunque sono visto le cose vecchie comunque no interpretazioni meravigliose inquadrature fantastiche riprese appunto in un certo qual senso dall'epoca storica poi è una produzione statunitense detto questo però anche tutto quella che è l'atmosfera dei film italiani quantomeno per esempio io sono io sono di Roma grazie per avercelo detto davvero se no non lo sapevamo dubbio rassorto vai avanti non divagare vai avanti ma cazzo stavi dicendo maledizione io personalmente quando vedo una serie di raccordi cinematografici e di spostamenti di location hanno senso nel senso quando lui si sposta da una zona di Roma all'altra di notte ha tutto senso non sono inquadrature prese a prescindere solo esclusivamente ad esempio per far vedere quello scorcio o quell'altro scorcio sarebbero degli escamotage assolutamente plausibili perché uno in più in una serie internazionale quindi voglio far vedere il più bello per quanto riguarda Roma ad esempio loro in un certo momento si spostano c'è tutta una carrellata di una notte in cui lui si sposta è tutta seguita in maniera molto intelligente gli attori sono tutti bravi c'è anche la figlia di Sting che interpreto un personaggio ci sono anche tanti bravissimi attori italiani c'è Margherita Bui sto vedendo adesso ecco su Margherita Bui personalmente è l'interpretazione che mi fa un po' più fatica capisco capisco è il suo Maine Coon lei fa la portinaia da questo gatto molto in particolare c'è un gatto che credo sia un Maine Coon un gatto gigante bellissimo meraviglioso che francamente negli anni 60 secondo me a Roma una portinaia me incunna me san proprio che poi magari è un altro tipo io non sono un esperto di gatti quindi magari non lo so quello è il gatto tipico romano degli anni 60 istinto tra il 60 e il 61 questo non lo sapremo mai detto questo mi pare un po' strano ma messo questo da parte la serie è veramente eccellente anche la colonna sonora curata da Jeff Russo non calpesta mai la scene è sempre molto elegante ovviamente noi siamo italiani quindi comunque sentire quel sound ci dà un pochettino l'imperfezione in un certo qual senso ma lui comunque è il compositore di Fargo per intenderci ok che figata quindi assolutamente quello stile di serie ce l'ha nelle corde ed è assolutamente puntuale secondo me è una di quelle serie che in questo periodo storico ti possono agganciare a Netflix per quei due giorni in cui te la divori scusi maestra di che cazzo parla sta serie cosa è sta serie però ho capito prenderla larga ma di cosa cazzo parla sta serie di un personaggio che vive varie perivezie perché si finge qualcun altro punto ok quindi è proprio il talento di Mr. Rizzo ok perfetto ok ok figo scusa hai avuto un voto per quella roba che hai visto 10 minuti hai un voto anche per questa assolutamente assolutamente gli do otto fette di pizza fatte con il forno a legna che ha costruito un nonno ho capito wow wowissimo sono contento che non ci fosse del gatto sulla pizza la ritengo una vittoria tra l'altro non sono Nick non sono Nick no è incredibile perché sono più confuso da questo voto che non dalle sette fette di una pizza di 10 che vengono date dal pizzaiolo che ha aperto la pescheria in Hokkaido però grazie ok ok non so di che cosa mi hai parlato ma so che mi hai parlato di qualcosa e che magari ti ho interessato è questo il punto di fare diciamo una nota ma non spoilerare nulla ok ok però allora io ti faccio una domanda ma tu sai cos'è Nen proprio wow che schifo cioè proprio la pubblicità mi è interessato molto quello di cui mi hai parlato lascia adesso che cerchi di venderti tipo un provider di energia però in realtà Nick dice il giusto perché sfruttiamo il fatto che Fabio di solito non sia con noi e effettivamente tu hai idea di che cosa sia Nen no non ho più idea di cosa sia effettivamente perfetto allora sei la cavia perfetta questo vuol dire che tra l'altro non ascolti power pizza e quindi questo cioè nel senso un punto di demerito istantaneo ok ma per fortuna te lo possiamo spiegare sì perché allora Nen te la faccio breve è un provider di energia luce e gas che fa questa cosa fighissima che tu praticamente gli dai impasto vai sul sito per fare il preventivo gli dai tipo le tue quelle che non ti servono più o anche o anche esatto quelle che non ti servono anche sull'uce solo gas lui ti fa un calcolo ti fa un preventivo di quanto andresti a spendere con loro e se ritieni che la cifra vada bene tipo io e Sio risparmiamo un botto con loro io risparmio una quantità stupida davvero puoi fare una cosa fighissima che praticamente questa cifra loro te la spalmano su 12 mesi in 12 mensilità uguali quindi tu per l'anno successivo sai sempre quanto andrai a spendere che voglio dire per delle persone anziane come noi che guardano molto sul conto per vedere risparmi spese è una gran comodità in più è un'azienda che compra da fonti 100% green e il gas che invece non lo puoi comprare da fonti rinnovabili ma il gas compensa le emissioni quindi sia bello da un punto di vista di progetto che da un punto di vista pratico e di risparmio soprattutto cioè nel senso tutte queste cose sono spiegate insieme a una serie anche di altri prodotti tra cui 10 di cui abbiamo parlato nella scorsa sponsorizzazione o dopo ti dico anche qui quello tutte queste cose sono spiegate sul loro sito e a differenza tua di poco fa e dei commenti e i grissini dell'inizio di questa puntata loro spiegano le cose in una maniera super comprensibile perché sono dei ragazzi della nostra età e quindi hanno detto di pregare con questa maleducazione di tu che dici a qualcun altro ti sei espresso male cioè non so quale arroganza però ti prego ma procedi procedi me la prendo me la prendo una delle cose veramente rinfrescanti che mi ha avvicinato il fatto che tutto quello che loro ti spiegano su come funzionano i loro prodotti su come funzionano i loro servizi eccetera è scritto in un italiano super comprensibile non come altre aziende dove tipo ti viene da non capire mai se ti stanno fregando o meno niente burocratese cioè sia sul sito che a livello contrattuale cioè tutto scritto in un italiano assolutamente potabile e in più se sottoscrivete se sottoscrivi tu nel caso specifico una fornitura con loro utilizzando il nostro link che è ciao.net.it slash powerpizza a cui è già applicato il nostro codice segreto che è pizza elettrica avete o hai un ulteriore sconto che ti viene spalmato sui 12 mesi di fornitura c'è in più quel servizio che diceva a cui accennava prima Nick che è 10 che è una figata perché praticamente per la luce se non sei già cliente nenne tu nel caso non lo sei se passi a loro puoi tenere il prezzo dell'energia ha bloccato per 10 anni cioè ovviamente la bolletta poi varia in base ai tuoi consumi chiaramente ma il prezzo dell'energia tu per 10 anni ce l'hai bloccato che è una cosa francamente delirante quindi ecco facci un pensiero noi te lo diciamo poi vedi tu nello scontrino trovi e trovate tutti i link di cui potete avere bisogno sto per dire una cosa che non ci crederà nessuno ma è tipo la cosa che mi serviva più oggi ma che io te lo dico a caso te lo giuro noi e Nen stiamo qua letteralmente per aiutarti e quindi appunto vai su ciao.nen.it slash powerpizza e scontoni pazzi e offerte incredibili per te ciao ciao grazie grazie Nen avete convinto anche un Fabio Antonelli mazza no veramente ma vi ricordate io volevo dire ma vi ricordate quel tempo in cui si facevano anche le tipo la pubblicità occulta sì ma la pubblicità parte che è illegale adesso e comunque non è una cosa positiva no sì me lo ricordo ma insomma l'orro non ti stai rendendo conto che Fabio ha in mano una tazza ti suona tipo bene lo stavo ignorando non te ne sei reso conto ok solo io ho la cume e l'attenzione per vedere queste cose di cosa cazzo volete parlare cosa volete dire innanzitutto questa maleducazione te la devi tenere a casa tua ok allora io voglio parlarvi di una cosa perché l'ho accennato nello scorso after show perché recentemente hanno riportato al cinema Perfect Blue che è un film del 1997 un anime bellissimo di Satoshi Kon sono andato a vederlo e mi è piaciuto tantissimo perché io non conoscevo il lavoro di Satoshi Kon finora ho solo visto Perfect Blue ma mi voglio rivedere Paprika perché mi hanno detto essere molto molto bello hanno detto tipo è Matrix e Inception insieme che hanno dato vita al concetto di Inception quindi è il prossimo film di animazione che mi voglio vedere ma soprattutto perché ho visto un video saggio di Eyepatch Wolf sul perché Perfect Blue è spaventosissimo e questo video saggio mi è piaciuto tantissimo e mi ha dato degli spunti per dei ragionamenti innanzitutto ve lo lascio nello scontrino perché così non dite ah Nick sei andato a ridire quello che diceva lui se volete una persona che sa dire le cose bene andate a sentirvi il suo video ma una cosa recente o una cosa vecchia? sei anni fa era molto piccolino allora sarà una di quelle cose che ho visto e me la sono anche dimenticata perché i suoi li ho visti tutti però non mi ricordavo questa cosa su Perfect Blue mi sono reso conto che era veramente un po' all'inizio tra virgolette del canale di Eyepatch Wolf perché ci sono una serie di riprese in cui sta parlando di alcuni temi del film tra cui il fatto che noi pensiamo di conoscere ad esempio Eyepatch Wolf perché si guardano i suoi video però non conosci Eyepatch Wolf tu conosci l'avatar il personaggio creato che lui ti vuole far vedere e facendo vedere questa cosa e quindi mettendo tipo degli screen dei suoi stessi video vedi che al momento aveva tipo 30.000 iscritti non un milione e mezzo di iscritti come adesso quindi ti rendi conto che era un po' all'inizio della sua carriera da videosaggista comunque Perfect Blue parla di Mimi Kirigoe che è una cantante un idol all'interno di un gruppo che si chiama Chum io non riesco a ricordarmi questa cosa quindi ho questo foglietto che mi devo portare avanti grazie grazie per averlo avuto era difficile inizia il film in cui lei sta facendo l'ultimo pezzo l'ultima esibizione con le chum che nel senso se avete un minimo di infarenatura della cultura musicale e comunque dello spettacolo giapponese i gruppi di idol ce ne sono tantissimi è proprio un'industria intera quelle delle idol in Giappone e lei deve annunciare che ha deciso di lasciare il gruppo che è una cosa molto strana nel senso che viene presa anche in maniera strana dai loro stessi fan perché vuole intraprendere una carriera più da attrice fondamentalmente Mimi ci fa capire che lei è un po' preoccupata su quale possa essere il futuro nella sua carriera e dice magari facendo un virando verso il cinema verso la recitazione potrei avere una carriera un po' più sostenibile ed è una ragazza molto giovane che vive da sola in una città non mi ricordo neanche se dicono essere Tokyo potrebbe non essere mai specificata quale sia la città però una grossa città giapponese che vive da sola e che appunto sta cercando di creare la sua carriera in questa maniera ora questa cosa il fatto che lei lasci il gruppo crea un problema con alcuni dei suoi fan che non sono contenti di questa cosa i fan giapponesi tendono ad essere estremamente vocali e presenti nella vita delle persone di cui sono fan possiamo anche dire un filino maniacali comunque non che sia un problema solo loro è perché pure da noi pure da fuori dal Giappone c'è sta roba però sì comunque sì esatto e tra l'altro tema centralissimo di Perfect Blue perché nonostante sia un film d'animazione di circa 90 minuti è una forse una delle cose thriller e horror più potenti che io abbia mai visto è veramente un pugno nello stomaco ed è per questo che è fatto in maniera magistrale comunque il film è ambientato negli stessi anni 90 dove l'internet è appena diventata una cosa tanto che Mimi stessa che ha 20 anni non sa dell'internet non sa bene come usarlo si fa spiegare addirittura nel momento in cui compra un computer si fa spiegare da un'amica come andare sull'internet e scopre che ci sono delle persone che hanno dei blog che parlano di Mimi di lei cioè sono dei fan che hanno tipo dei mondi virtuali in cui e tutto il film si basa sul fatto che lei man mano nota che la sua stessa identità l'avatar la cosa che lei ha creato viene utilizzata in una maniera che è diversa da quella che lei stessa vuole e inizia a diventare una realtà molto distorta quella che vive fino a diventare traumatica e problematica sotto certi punti di vista è veramente bellissimo e come spiega benissimo è un film che parla del dualismo di due cose che magari partono in maniera parallela all'inizio e che poi a un certo punto iniziano ad allontanarsi ed è assurdo quanto a livello di regia questa cosa sia resa bene dentro questo film perché ok il tema ve l'ho spiegato grandi linee è un film che comunque ha un suo following abbastanza importante perché è un film che è entrato nel culto degli animi che parlano di determinate cose ma la cosa incredibile è veramente la regia perché Satoshi Kon riesce con pochissimo a rendere perfettamente la rottura della realtà la spaccatura nel cervello della nostra protagonista e di quello che succede di tutte le allucinazioni i problemi psicologici l'ansia la paura quello che succede è fatto in una maniera che non mi aspettavo minimamente cioè io non lo conoscevo sono stato portato da un amico al cinema e meno male grazie Nelson perché veramente è una roba che mi ha cioè mi è rimasta dentro tantissimo una delle cose ancora più fighe è che il tema degli avatar e del fatto che tu non abbia o possa non avere possesso o proprietà controllo sulla tua identità percepita non sulla tua vera è ancora più valido oggi perché oggi siamo costantemente a creare avatar di noi stessi online e cioè quindi rivisto magari non userei il termine avatar però capisco il discorso è chiarissimo c'è nel senso vent'anni dopo vedere che questa è una cosa così presente nella quotidianità ovunque anche di persone che non sono nell'ambito dello spettacolo nell'ambito della musica cose simili ma proprio l'everyday show che cerca di perfezionare un pochino un'immagine idilliaca di sé da proporre online e capire quanto quel tipo di identità se non ne hai il controllo non ne hai la proprietà e viene usata contro di te diventa una cosa drammatica cioè è veramente cioè tocca veramente delle corde molto attuali quindi l'ho trovato veramente super bello e anche molto interessante girato benissimo iper violento in determinati punti veramente super gore è bello peso a tratti io non lo rivedo da tanti tanti anni però mi ricordo che era abbastanza un peso cioè era proprio un'atmosfera densa non so come dire densa nel senso che era difficile da sopportare a tratti però è proprio vero opera prima di Satoshi Kon non so se l'hai detto prima e lo dico solo perché nel frattempo ho googolato ho controllato su wikipedia prima di dire una stronzata però c'è ancora di più merita perché caspita c'è la prima cosa a livello di lungometraggio c'è tanta roba come diciamo noi giovani tantissima roba ultima cosa che mi è piaciuta tantissimo è che mi ha fatto notare il video di Ipech Wolf continuo a dirlo perché voglio mettere le mani avanti se non stiamo plagiando stiamo semplicemente riciclando in maniera indegna quello che dice lui nel suo video sono due cose molto diverse molto diverse molto diverse una delle cose che dice che appunto mette l'accento su come i personaggi le persone di questo mondo di questa realtà di questa storia sono brutte cioè nel disegno dei volti delle fattezze eccetera sono un po' storte cioè gli occhi sono un po' troppo piccoli per la testa sono un po' mossi soprattutto uno dei personaggi che è chiaramente un personaggio molto importante e molto negativo è proprio brutto sembra qualcuno che indossa una maschera di un essere umano mentre invece le idol e quasi solo le idol e le persone che fanno parte dell'industria dell'entertainment del cinema della musica sono invece bellissime sono disegnate con tutte le proporzioni corrette questa cosa continua ad aggiungere un allone di fastidio e di straniamento a tutto il film che secondo me rende il tutto ancora più figo cioè è veramente bellissimo quindi se vi capita andate a cercarvelo io in questo momento so che in Italia il cinema perché hanno fatto una versione restaurata in 4k c'era per alcuni giorni non penso che ci sia ancora non credo però so che ad esempio lo trovate negli Stati Uniti e in Canada su Shudder ah ok madonna una delle ragioni poi questo lo dobbiamo dire quando si parla di VPN però veramente una delle ragioni per farsi un VPN è usare Shudder più passano gli anni più mi allontano dal cinema horror perché sto già abbastanza in ansia e stressato di mio senza vederlo nei film però cioè è una piattaforma incredibile è la piattaforma di streaming dei film horror è bellissima no infatti è splendido nel senso se non avete problemi con alcuni dei temi che sono anche abbastanza triggeranti di questo film eccetera ve lo consiglio tantissimo perché è veramente un'opera importante e ben fatta quindi si becca 9 fette di pizza con non ho minimamente pensato agli ingredienti quindi in questo momento sto improvvisando no le altre volte le dico le cose eccetera sto pensando se c'è del cibo nel film che non ci pensi esatto non è che se l'altra volta ci hai pensato prima mi dici sono 9 fette di pizza con sopra le schegge di vetro e i chiodi allora dico ah cazzo che bravo che ci hai pensato prima invendati qualcosa adesso su due piedi voglio dire premesso che dovresti dirlo di solito io questo è quello che mi aspetto però adesso vedo delle mandorle e quindi sono 9 fette di pizza di una margherita con le mandorle col guscio sopra in modo che quando le mangi ti si spaccano i denti ed è terribile di nuovo non è un bel non sembra un voto positivo però ok sappiamo come funzioni anche oggi me la sono cavata andiamo avanti oggi la pagnotta sì perfetto io vi chiedo una cortesia ci avviamo verso la conclusione della puntata io non avevo oggi cose da condividere con voi perché sono in quello stadio un po' come se io che inizio un sacco di cose ma non le è ancora finite quindi vabbè ok è vero che Dio Fabio ha recensito i primi dieci minuti però non volevo fare questa cosa non volevo dire quindi ho detto io oggi mi metto da parte però io ho un amaro per la fine della puntata ok lo chiamo amaro è un mio sproloquio quindi voi se volete adesso andare a farvi un caffè o farvi i cazzi vostri io lo capisco la puntata facciamo che è finita qua però se rimaneste allora lo sapete già cioè allora io a me i social già di base fanno schifo tendenzialmente tra l'altro ultimamente faccio sempre più fatica proprio a costringermi a usarli anche perché io ho sempre sta vena masochista che proprio mi spinge a fare una cosa forse la peggiore che è leggere i commenti sotto le cose cioè che sia il video di youtube perché ho delle ragioni che sia il video su youtube il post su instagram l'articolo di giornale io tendenzialmente un occhio ai commenti o una profondita lettura gliela do ok che so che è un'idea di merdissima perché anche se serve per ricordarci che comunque il mondo non è la nostra bolla rassicurante però allo stesso tempo mi rendo conto che non è una rappresentazione accurata del mondo perché quelli che trovi tra i commenti magari sono la parte più vocale dell'internet magari pure le persone più disinformate delle volte però fatto sta che è comunque un piccolo reminder del fatto che esiste altro nel mondo oltre a noi anche se è negativo ok ciò nonostante io sono comunque un fan e tu lo sai nick dell'imparare dagli esempi negativi quindi secondo me sei il fan di questa cosa no però veramente secondo me mai come oggi cioè fermiamoci non so cosa state facendo se non siete andati a prendervi un caffè fermatevi mezzo secondo riflettiamo veramente su un paio di cose stiamo perdendo completamente il senso critico ma è la voglia soprattutto di dissezionare gli argomenti cioè e non lo dico solo perché sull'internet vedo costantemente opinioni da ultra cervello liscio che non sono quelle le mie cioè nel senso chi se ne frega ok gioca anche quello ma non è perché voglio vedere la gente che dice le cose che già penso io però complice tutta la merda che c'è nel mondo in questo momento che poi non è una roba che è nata adesso però complice questo momento storico particolarmente difficile cioè io veramente continuo a vedere opinioni che vengono a galla su argomenti di cui si sa poco espresse da gente che veramente non sembra essersi interrogata mezzo secondo su quello che sta dicendo tu prendi un qualsiasi stracazzissimo di tema caldo quello che vuoi e leggerai sotto i commenti che sia tu su instagram su facebook se qualcuno lo usa ancora su tiktok sul sito del giornale dove cacchio vuoi leggerai gli stessi pareri ripetuti a pappagallo da gente che veramente dici regà ma avete pensato a questa cosa prima di scriverla cioè che tu stia parlando di israele che ammazza la gente che lo fa da mo' voglio dire che parli della polizia che bastona la gente che manifesta che lo fa da mo' cioè nel senso Elio Petri c'è indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto non l'ha scritto ieri cioè non è che queste cose esattamente come il discorso di israeli sono delle novità adesso però vabbè comunque sembra veramente che alla gente pesi il culo no non alla gente che noi a noi tutti ci pesi il culo sprecare veramente quei due secondi per informarci che è una parola anche usata a sproposito ma soprattutto per riflettere sulle cose che stiamo dicendo cioè due cose importanti se proprio vogliamo cosa che sarebbe positivo fare se vogliamo confrontarci e dibattere sull'internet due cose uno non lasciamoci distrarre dai commenti del cazzo cioè quando appunto ci sono i commenti stupidi sotto le cose sia in un senso che nell'altro o li ignori o rimaniamo comunque focalizzati sul punto della questione cioè non permettiamo che chi vuole continuamente spostare il senso del discorso possa sempre spostare sai la linea di metà un pochino più in là rimaniamo cioè non facciamoci prendere dalle emozioni di pancia e anche noi per finire a ripetere gli stessi slogan a pappagallo pensiamo a quello di cui stiamo dibattendo e soprattutto vi supplico arriviamo con un nostro pensiero già formato e sostenuto da qualcosa cioè non facciamo a nostra volta come quelle persone che ripetono degli slogan a pappagallo solo perché è più comodo prendiamoci questi cazzo di due minuti per studiare un attimo e riflettere sulle cose vi supplico che io mi rendo conto che sto predicando al coro perché raga cioè di questa cosa sono abbastanza convinto il grossissimo del pubblico di power pizza io non so come sia possibile ma è un pubblico di persone sane voglio dire nel senso nel senso chiamato del termine tranne che per le loro scelte in ambito di podcast però per tutto il resto però c'è veramente tante volte comunque siamo anche noi che veramente per pigrizia o per partito preso ci troviamo a ripetere delle cose senza prima avere non so come dire messo sotto la lente di ingrandimento senza avere dissezionati i nostri stessi pareri vi prego prendiamoci un cazzo di minuto per pensare alle cose per interrogare anche le nostre opinioni perché veramente stiamo scendendo una china che di nuovo come i discorsi di prima non è una novità lo facciamo da da mo voglio dire poi magari adesso è più evidente però vi supplico vi supplico facciamo questa cosa cioè prendiamoci un secondo per pensare alle cose di che cazzo ho parlato non lo so era uno sproloquio ve l'ho detto però è difficile io veramente cioè in questo periodo veramente sto alla sto alla fruttissima sto oltre alla frutta dio santo quindi ciao ciao grazie per aver ascoltato Power Pizza diciamo se non volete farlo per il mondo fatelo per l'orro tra l'altro uno e due oltre la frutta c'è solo l'amaro che è esattamente dove stavi in questo momento voglio solo dire che sono comunque super d'accordo con quello che stai dicendo che è una cosa che noto ogni tanto mi capita su delle cose locali super piccole ok tipo il gruppo di facebook della zona di chinatown di milano in cui vivo ok ed è cioè è veramente cioè quella cosa lì senza le ripercussioni di un tema importante ma è quella roba lì cioè di persone che non sanno di che cosa stanno parlando e si litigano uno sull'altro per delle cose che non hanno nessun senso neanche su quello su cui sono partiti quindi è veramente assurdo è quello cioè rega io ho tirato in ballo cose grosse e gravi voglio dire ma è una forma mentis cioè veramente se non guarda hai detto bene se non hai niente da dire o se pensi di non avere abbastanza non so come dire conoscenza conoscenza di un discorso non c'è bisogno per forza di discutere di litigare su internet prendiamolo come spunto per essere onesti con noi stess guardarci allo specchio e dire magari magari tipo mi interrogo un attimo dico so effettivamente di questa cosa di cui si sta parlando poi magari in un secondo momento quando a certe cose hai già pensato hai già costruito hai già scrutinato il tuo pensiero vai a parlare a litigare con le persone senza però ripetere le stesse cose che sono vabbè ci siamo capiti fine ci siamo capiti che cazzo di fatica veramente aggiungerei se sentendo queste parole qualcuno non si sente diciamo parte di questa situazione nel dubbio una domanda in più famosela comunque sì 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 assolutamente comunque ragionare con il cuore in mano è una cosa molto bella e fa bene ma un'altra cosa che fa bene è sostenere Power Pizza perché sono adesso no perché sono adesso www.datecideisoldi.com ma voi sostenete Power Pizza tenete dei soldi come dice il sito stesso tra le persone che ci sostengono ci sono mille tier mille sono quattro però sono mille per noi che sono appunto Marinara, Margherita Bufala e Calzone ci sono appunto i calzoni con tutto che pagano per avere il loro nome letto alla fine della puntata e noi lo facciamo ma infatti io prima credevo che stessi dicendo tra le persone che non pensano alle cose io stavo pensavo che il seguo infatti ci sono i calzoni che fanno scelte sbagliatissime nella vita l'hai pensato tu ma potrei essere d'accordo vediamo ma grazie ai calzoni che oggi nello specifico erano monumenti incredibili e nello specifico grazie a Pizza Anonima addormentato sulla tastiera io voglio dire grazie a Er Colosseo di Verona mi sa che per fortuna per fortuna sono l'unica persona che riesce a pronunciare Er in maniera ok grazie è stato una lunga cacca grazie a Varg monumento alla stanchezza e all'ignorare i cigoli e alle ginocchia dopo quattro giorni pazzi di salone del libro mi piace perché Varg dovrebbe essere una persona giovane invece per l'ennesima volta ci conferma che la terza età è dietro l'angolo grazie grazie Varg grazie a Brucomela Surf Nico che ha di nuovo incontrato suo maggio sia CEO a Romics e a Power Appato in Katoon Surf Nico e finiti i caratteri punto di nuovo comunque non sapevi tu cosa stavi leggendo ma non lo sapevo neppure io vai tranquillo cioè nel senso io invece dico grazie a Niki e Maesh Paolini su Bramania e grazie a otto monumenti patrimonio dell'UNESCO c'è tempo venite a Ravenna città dai monumenti incredibili ma non ho capito se i monumenti sono quelli di Ravenna o se è tempo però vabbè comunque andate a Ravenna bellissima e grazie a monumenti incredibili cioè in buone condizioni sempre aperti economici ben pubblicizzati non mi viene in mente niente generico andava più che bene grazie persone che avete ascoltato anche questa puntata senza CEO quindi forse meglio delle altre puntate di Power Pizza vi lasciamo adesso con gli ultimi saluti prima di volare nell'after show dove devo parlarvi brevemente di due film incredibili di metà anni 90 ma allora io lancio il tema dei nuovi calzoni ok per la prossima settimana che è Cagliari non so perché ma è Cagliari il tema della nostra settimana è Cagliari io ne avevo uno ma Cagliari mi va benissimo ho avuto zero problemi grazie Fabio per aver fatto con noi l'ennesima puntata grazie a voi se foste tra le poche persone che non hanno sentito che lo dicevo all'inizio o che non seguono suona tipo bene è il podcast di Fabio è meraviglioso lui guarda al cinema ai videogiochi alle serie tv dal punto di vista della colonna sonora quindi andatelo ad ascoltare perché è una bomba dove ti possono trovare Fabio sull'internet ma sicuramente su tutte le piattaforme di podcast Springer Spotify fai tutto quello che volete e dopodiché semplicissimamente su Instagram ok pensavo dicessi tipo in via Rossi e ti doxassi così in un colpo di scena finale incredibile va bene voliamo verso l'after show grazie Fabio grazie Nen grazie Nick ma soprattutto grazie Lorro e soprattutto grazie Sio che non c'era oggi da Lorro è tutto pizza e chiudo ciao pizza e chiudo ciao a power pizza it's a pizza with power actually not a dish better part we're home S-I-O L-O-D-O-R-E-O and i-cola tasty Lorro likes TMG think he's ranging my league see what I call the king of the dog the show is over now visit our website www.unpodcast veramente bellissimo guarda ve lo consiglio proprio